Mentre le città si svuotano in previsione del ferragosto, molti sernini hanno deciso di trascorrere le vacanze estive nel capologo di provincia, complici, crisi economica o problemi di altra natura. C'è anche chi è stato costretto a restare a casa, poiché deve ospitare parenti e amici che tornano in Molise, dal nord Italia o dall'estero. Chi ha rinunciato per scelto per necessità la vacanza non disdegna comunque qualche gita fuori porta al mare, in montagna o al lago, anche perché il Molise è una regione particolarmente generosa per bellezze paesaggistiche, archeologiche ed ambientali. Isernia, ho avuto la fortuna di avere i miei nipotini che vedo uno o due volte l'anno, quindi quest'anno staremo a Isernia e ci riposeremo qui senza andare fuori. Poi se capita verso settembre o anche più avanti, vedremo di fare qualche uscita, ma cerchiamo di fare sempre una vacanza quotidiana sperando che non ci siano degli inconvenienti o delle emozioni che potrebbero poi insomma, va bene così. A casa? No, 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 per me non è il mare, il mare non è per me. No, no, io sto a casa, non posso camminare, non vado da nessuna parte. Normale come sempre, lavorando. No, no, io resterò sicuramente qua in zona. Allora, io non sono molisana, sono siciliana, però il mio compagno vive qui e staremo qui una cosa molto tranquilla, con amici, in zona insomma. Guardi, non essendo molisana non so benissimo quali siano le pente più gettonate, però credo un po' tra il lago, forse di Castel San Vincenzo, magari qualche paesino carino come Pesco Costanzo e magari Termoli. Penso questo, poi non so di preciso.